Lo vedrete intervenire sul bordo d'uscita vedendo i comandi, con di un'anima, una piccola virata a S, con piedelle S per avvicinamento. Dolcissimo e preciso il volo, questi parapendieo con queste condizioni meteo sono veramente una dolcezza incomparabile. Un po' di velocità, richiama, ma non arriva al centro. Peccato, con questo suo atterraggio ha perso sicuramente qualche punto. Buona comunque la prestazione del turco a Canicici.